Musica Giovedì 13 luglio, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. La procura di Campobasso ha aperto un fascicolo sull'assunzione a tempo determinato, ma prorogabile, di diversi amministratori locali e sindaci nell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale della Pesca, l'ARSARP. Le indagini al momento contro i gnoti sono condotte dal PM Nicola D'Angelo. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Procedure discutibili, una tempistica fenomenale e le indiscrezioni sulla solita lista di beneficiari amici che lasciano tanti dubbi. Questi sono gli ingredienti dell'elenco dei nuovi contrattualizzati con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale della Pesca, finito nel mirino della magistratura. Il sostituto procuratore Nicola D'Angelo ha aperto un fascicolo per accertare la regolarità o meno del concorsone che ha visto l'assunzione di molteplici figure, alcune delle quali ricoprono il ruolo di amministratori e sindaci in diversi comuni molisani. Si tratta del fascicolo numero 2451 del 2016, al momento ancora a carico di persone ignote, per le quali Nicola D'Angelo ha chiesto la proroga delle indagini. La storia del concorsone era già stata oggetto di critiche da parte del mondo politico, imprenditoriale e mediatico, prima fra tutti Danilo Leva, Michele Iorio e il Movimento 5 Stelle, e parte dal 26 giugno 2015, quando il commissario straordinario Arsarp pubblica un decreto che prevede la formazione di un elenco, short list di esperti da utilizzare per l'attuazione delle attività delegate dalla Regione Molise. Il decreto viene pubblicato a soli 11 giorni dalla scadenza del bando e precisa che non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, neanche a dirlo, e ad aprile 2016 si annuncia una prova selettiva a quiz con risposta multipla, seguita da una prova orale che l'Agenzia si riserva di poter espletare, a cui i 464 iscritti nell'elenco possono partecipare per formulare una graduatoria di merito per ciascuna area e per ciascun profilo. Appare oggettiva a questo punto l'anomala modalità di espletamento della selezione che tra l'altro sembra non aver garantito il rispetto della regola fondamentale dell'anomimato delle procedure concorsuali. La graduatoria fornisce l'elenco di coloro che sono stati contrattualizzati per un anno rinnovabile e che percepiscono uno stipendio anno lordo compreso tra i 15.000 e i 25.000 euro. Si tratta di incarichi che hanno strettamente a che fare con il lavoro svolto dell'assessorato regionale all'agricoltura, tanto che non mancano assunti dell'Agenzia già in servizio negli uffici dell'assessore e nell'elenco sono presenti i nomi di diversi amministratori locali, molti dei quali riconducibili per vicinanza politica all'aggiunta regionale. Antonello Savino, vice sindaco di Gildone, Michelina Iannetta, assessora comunale di Boiano, Andrea Romano, primo cittadino di Spinete e neoconsigliere provinciale a Campobasso, Nicola Montagano, sindaco di Bonefro, Francesco Troilo, sindaco di Acquaviva con le Croce, Michele Di Bartolomeo, sindaco di Ripa Limosani e Saverio Nonno, vice sindaco di Fossalto, tutti contrattualizzati dall'Agenzia di Via Vico. Oltretutto si tratta di rappresentanti di comuni che possono essere richiedenti delle misure del PSR 2014-2020 a cui va aggiunto che tali comuni e per essi i sindaci, vincitori del concorso dell'Arsap, fanno parte del galle e quindi titolari delle misure del PSR nonché addetti a valutarne i relativi progetti. Ora sarà la magistratura a valutare se sono stati commessi illeciti e la storia è tutta nelle mani del PM Nicola D'Angelo. Cambiamo argomento, apertura in grande stile questa sera a San Giovanni in Galdo della rassegna di Gezzi in campo. Gezzi in Galdo giunta alla tredicesima edizione, l'inaugurazione con l'esibizione dei Purcotton Quintet, a seguire organ trio con Daniele Scannapieco, al sassofono Alessio Busanca al piano e Stefano De Rosa alla batteria. Appuntamento dunque questa sera a San Giovanni in Galdo a partire dalle 20.30. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Nicola Passarelli in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Venafro, travolto da un'auto mentre attraversa la strada ha morto lo scrittore Amerigo Iannacone. Termoli riuscito il progetto di alternanza scuola-lavoro alla Del Giudice. Termoli fissate le date del fermo pesca stop per la prima volta a settembre. Scoppia un incendio alle isole Tremiti, interviene il Canadair. A Bagnoli del Trigno inaugurata la sede dell'associazione caccia pesca ambiente. Allarme siccità, si corre ripari per evitare l'emergenza, vietato usare l'acqua per usi non domestici. E poi Termoli torna il doppio senso sul lungomare nord, c'è l'ordinanza. Campobasso allarme bomba in via Mazzini per una valigetta sospetta, città paralizzata per l'intera mattinata. L'alta moda in scena a Lido, il tricheco a Rio vivo, unica tappa molisana del prestigioso concorso di alta moda. Poi dopo Poggio Sannita intitolato all'ex sindaco Maria Antonietta Bottaro il nuovo edificio scolastico. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni e ancora altre notizie dalla regione e dall'Italia, dalle altre regioni italiane. Passiamo adesso a vedere primo piano molise come titolo. Travolto da un'auto perde la vita lo scrittore Amerigo Iannacone. Poeta e cultore della lingua italiana il 67enne insegnante in pensione è stato investito mentre attraversava via Colonia Giulia il drammatico incidente a pochi metri dall'ospedale di Venafro. Indagato per omicidio stradale il 78enne alla guida. La scomparsa del professore ha suscitato dolore e sgomento alle 17. Oggi i funerali. Poi in taglio alto licenziò il direttore del Cardarelli Bonomolo condannato a risarcire un milione all'ASREM. La sentenza è della seconda sezione giurisdizionale di appello della Corte dei Conti. Fatti nel 2000 quando l'ex consigliere regionale era DG della ASL di Campobasso i due giudici hanno ribadito l'illegittimità del provvedimento con cui defenestrò Preghiati. Poi Boiano, Alemanno, Stoccom, Perrella ha fatto bene a votare il bilancio. Pozziglia, fuoco ettari di macchia mediterranea, chiara la matrice dolosa dell'incendio. Campobasso sostegno ai bimbi orfani nasce l'associazione nel nome del Parà Alessandro Dilisio. Scuole e la regione concede 500 mila euro a due comuni finanziati progetti di Iserni e Portocannone. Frattura, dice, la sicurezza in cima all'agenda. Allarme bombastrade, chiuse artificieri in azione, mattinata frenetica a Campobasso. Per quanto riguarda ancora la politica, province e migranti, polemiche nel PD, Carriero, dice, il caldo fa brutti scherzi. Termoli soddisfatti gli armatori, fermo pesca, barche in porto dal 28 agosto all'8 ottobre. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, Agnone ok, macchia fuori dai giochi. Imprenditori vicini a Daliberti scrivono il lupo in serie D. Il gruppo campano assicura 70 mila euro in poche ore. Pallacanestro, Isernia rivede la bima, rischia il titolo. Cestistica Campobasso ha messa in A2 rosa. Ad agosto, mondiali di calcio da strada, Boiano si prepara a un evento da record. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise come titolo. Anche qui c'è la cronaca, in evidenza investimento mortale vittima. Un noto scrittore, Venafro sotto shock, un'auto travolge uccide. Amerigo Iannacone di 67 anni, l'incidente nei pressi dell'ospedale. E poi Campobasso alle prese con misure antiterrorismo, valigia abbandonata, fa scattare allarme bomba. Città blindata. Ieri mattina alle 9.30 la segnalazione ai carabinieri. Poi fermo pesca a settembre. Stop dal primo al 30 del mese. Arrivata la tanto attesa fumata bianca per quanto riguarda il fermo biologico del 2017 dal Ministero delle Politiche Agricole. In taglio alto, scuole sicure erogati 500 mila euro per gli edifici di Isernia e Portocannone. Poi regione limitare il consumo di acqua. Firmate le ordinanze. Ci sono i primi provvedimenti dei sindaci. Meloni contro l'Abdi San Giuliano di Puglia. Una follia. Questo è l'intervento del leader di Fratelli d'Italia. Poi da Termoli torna il doppio senso sul lungomare nord. Da Campobasso la SEA promossa dal rapporto RAE 2016. Raccolta rifiuti primo posto nella provincia. Poi spettacoli tutti gli eventi dell'estate nei nostri paesi. C'è la rubrica all'interno del quotidiano. E poi cultura. Una terra chiamata Molise. Oggi il primo ciacche della docufiction interamente girata in regione. L'inferno si è spostato alle Tremiti in venti salvati via mare. C'è la foto dell'incendio alle Tremiti. Poi sport. Serie D. Calcio. Lupi. i rosso-blu si iscrivono. La domanda è stata perfezionata. Perrucci su Facebook con estai serenità. Non me le ruberete mai. È il commento che ha rilasciato. Futuro Molise. Incendio alle isole Tremiti. Venti turisti. Soccorsi via mare. Poi consiglio regionale. Approvato il piano energetico ambientale della regione. I dipendenti della GTM di Termoli sono stremati. Non percepiscono lo stipendio da tre mesi. Pediatri di libera scelta. Frattura illustra il nuovo accordo approvato dal comitato permanente. Tra in Italia Frattura e Nagni dovrebbero scusarsi con i molisani e cospargersi il capo di Cenere. Scrive Futuro Molise. L'assessore Nagni alla canna del gas ricorre alle soluzioni più estreme. Poi Venafro. Città sempre più sporca. Incuria e degrado. la fanno da padrone. Ci sono poi le altre notizie di Futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso. Migranti. No di Macron all'Italia. L'Europa tiene chiusi i porti. Ondata di sbarchi. Pronte le restrizioni per le ONG. Allerta per la nave neofascista. I tagli mai fatti ogni giorno una società pubblica. in più sono 9.000. Tante inutili dai casino alle terme. Poi il caso manovra. L'Unione Europea approva la flessibilità sui conti. Con i fondi risparmiati diventa possibile evitare l'aumento dell'IVA. Roghi in tutto il sud. A San Vito Lo Capo. Turisti soccorsi con le barche. Fiamme senza tregua. Fuga dal resort. C'è questa foto notizia. L'incendio a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Allarme al polo sud. Si stacca l'iceberg dei record. È grande come la Liguria. Passiamo adesso a vedere il Corriere della Sera. Come titola Renzi. In trincea contro tutti. Attacca Banca Italia. Letta. Il mio non fu un golpe. La replica da psicanalisi. Lettera dell'Unione Europea. sia la flessibilità. Nelle regole manovra più leggera. Decreto banche. Passa la fiducia. E poi c'è ancora questa foto notizia. C'è Macron e Gentiloni. Il vertice Gentiloni incontra anche Merkel. Pochi progressi. Macron. Non sempre la Francia ha fatto il possibile sui migranti. Roghi in Sicilia. I turisti in fuga con le barche. record di interventi dal 2007. Ed è emergenza. Poi il ministro e l'ex premier. Pado hanno irritato deficit. La riforma non si può fare. Poi c'è un retroscena. Sul PD avanza l'ombra. Di una nuova scissione. Così scrive Massimo Franco. Dal Corriere della Sera alla stampa di Torino. La rivolta dei professori. Stipendi fermi. Da sei anni. Blocchiamo l'università. Investimenti limitati. Siamo al diciottesimo posto. Nell'Ocse. Il contesto non è favorevole. Crolla il numero dei docenti. La minaccia. Decisi a disertare la sessione autunnale degli esami. Poi serve un 68. Il governo rischia. Parla a Bersani. Cambi rotta. Lì, Terenzi. Letta. E poi fiamme vicino al resort. I turisti fuggono in barca. Il Fatto Quotidiano. Grandi riforme. L'Italia brucia 28 elicotteri a terra e solo 4 in volo. Effetto Madia. Caos vigili del fuoco arma. Dopo lo smembramento del corpo forestale di 32 velivoli. Antincendio. Prima a disposizione. Ieri operativi solo 4. Il coordinamento non c'è più. I verdi, dicono il governo, compra gli F-35. Etruria. Matteo insulta tutti, assolve la Boschi, ma dimentica un papà. Scrive ancora il Fatto Quotidiano. Nel libro rivendica le ingerenze. Frontex. Renzi ha ceduto i porti. Di Maio in cambio degli 80 euro. Giocando sui migranti. Scrive ancora il Fatto Quotidiano. Conferme alle accuse della Bonino. L'Italia non può protestare. Passiamo adesso alla prima pagina del messaggero. Gli italiani bocciano lo IUS soli. Il sondaggio. Euromedia il 58,7% è informato. Il 53,1% è contrario alla cittadinanza per nascita. Migranti. Gentiloni. Insoddisfatto dopo il vertice con Merkel e Macron. Missione in Libia di Minniti. L'Europa fa lo sconto all'Italia. La manovra ora sarà più leggera. Il governo spera in 9 miliardi di margine. Bruxelles, ma dovete tagliare debito e spese. Poi anche qui un iceberg come la Liguria alla deriva nel Polo Sud. Libero. A Napoli si bruciano da soli. Altro che incolpare lo Stato assente. Piromani inceneriscono oltre 100 ettari di bosco per boicottare il nuovo parco nazionale del Vesuvio e salvare migliaia di case abusive da abbattere. Il sindaco si straccia le vesti, ma non fa nulla contro i criminali. Scrive Libero. Intanto i turisti fuggono. E poi non salvano le banche, ma i ladri. Passa la fiducia alla Camera sul decreto della vergogna. Scrive ancora Libero. Non si potrà punire chi ha provocato i crack. Per i cittadini invece il conto è salato. Da Libero passiamo al Sole 24 ore. Il quotidiano economico. Dissipati i rischi di sistema. NPL all'8% entro un anno. Visco ora le banche cambino. Bad Bank. Il tesoro riparte dalla SGA Patuelli. Aperture dell'Unione Europea. Correggere l'Unione Bancaria. Il Colle. Sia commissione d'inchiesta, ma dopo scrupolosa verifica. Ecobonus in tre anni. Investimenti a quota 9,5 miliardi. Un milione di interventi legati all'incentivo. Vediamo la verità. Le ultime bugie sui vaccini. Surreale uscita di Ricciardi. Per il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli immigrati che arrivano qui sono più immunizzati di noi. Ma i dati lo smentiscono. E c'è il problema HIV. E poi la Boldrini sbugiardata dalla sua ONU. E la tentata truffa all'Inter degli amici di Babbo Boschi. La cricca dei massoni che provò anche a scalare Banca Etruria. Etruria propose ai Nerazzurri una sponsorizzazione di Etihad da 125 milioni di euro. Era tutto falso. Però i dirigenti e l'allenatore Mancini ci cascarono. Poi venne a galla la verità. E fu trovato un capro espiatorio. Le otto ragioni dei genitori di Charlie. Oggi la decisione sulla sua morte. È un giudice o è Dio? È l'interrogativo di Caterina Belloni sulla verità. Passiamo adesso a vedere il manifesto. Banchi del mutuo soccorso. Il titolo passa la Camera senza modifiche col voto di fiducia il decreto sulle banche venete che Paduan e l'Unione Europea volevano intoccabile. Regala ad intesa filiali e clienti con la garanzia di miliardi pubblici. Il Movimento 5 Stelle scatenato in aula. La sinistra divisa nel voto. E poi troppi incendi. pochi canadeire tra il Vesuvio e la Sicilia. Dal manifesto ad avvenire il quotidiano dei vescovi migranti più a rischio. I nuovi limiti per le ONG. Così vite in pericole. L'Aibia annuncia raid aerei contro gli scafisti. Trapele il regolamento per i privati impegnati nei salvataggi. Altri 5.000 soccorsi in mare. L'OIM dice l'Europa abbia umanità nelle scelte. Scuola e salute. Vaccini intesa PD Forza Italia. Nessun obbligo per gli insegnanti. Le fiamme divorano il sud delle sue risorse. Turisti in fuga in Sicilia. In campagna roghi tossici. Passiamo al mattino di Napoli. Il parco del Vesuvio non c'è più. 100 ettari distrutti. Ma le fiamme non si fermano. Galletti dice subito l'esercito. Altri sfollati. Paura Ercolano e Ottaviano. Il canadè era al lavoro per isolare le discariche a rischio. Poi migranti. Il vertice delle belle parole. Da Macron e Merkel un'inutile solidarietà. Il sondaggio. Gli ussoli italiani contrari. Il secolo d'Italia. Alto tradimento. C'è ancora si parla di migranti. Ancora ecco il mea culpa francese. I nostri errori sui migranti. Renzi ridicolizza Boldrini. E follia a battere l'Eur. Centrodestra stacca tutti. Sondaggio per il secolo d'Italia. La gazzetta dello sport. Aube Mayang vai Milan. I cinesi di Cannavaro si allontanano. I rossoneri hanno più spazio per arrivare al top player che potrebbe tornare rossonero per 60 milioni di euro. E poi la presentazione dei Donnarumma. La maturità di Gigio. Tifosi scusatemi. Qui c'è la foto. Gigio Donnarumma con il fratello Antonio. Sarà il secondo portiere del Milan. Con loro l'amministratore delegato Fassone. Il DS Mirabelli. Bonucci mal di Juve. Il difensore guarda. Nuove strade. Marotta non alza il muro e aspetta voci anche su Milan. Scambio con De Sciglio e Romagnoli. E Inter. Il club lo valuta 40-45 milioni. Scic. Nuovi esami per il prestito. Roma. Ecco. De Frel. Totti. Braccio destro di Monci. Ancora Icardi e Perisic. Se non è felice qui all'Inter vada pure via. Poi Atalanta Show. Il Papu Gomez rinnova. Arriva Orsolini. Assalto a Gedess. E poi Torino. Baselli. Fino al 2022. Cairo rilancia. Voglio l'Europa. Con la Gazzetta dello Sport. Termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il Tg. Grazie per averci seguito. E buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il nostro obtenuto.